È un bene che esista in realtà come lo Smooth, ma anche altri locali, perché si dà modo alla musica di sopravvivere. Non solo la musica ovviamente riprodotta in versione cover o tribute, dovremmo sviluppare probabilmente anche più cultura e piacere di andare a scoprire gruppi nuovi. Ci è piaciuto molto stare qui, è stata più che un concerto una festa e quindi ci auguriamo di tornare sempre regalando qualche emozione con la musica dei dorsi.